Se stai riscontrando problemi riguardo a queste applicazioni bianche sul desktop, come puoi vedere a me c'è Discord, quindi l'icona è bianca. Per risolvere il problema possiamo risolverlo in due modi. Andiamo sul tasto destro su Start, Gestione Attività, vai su Dettagli, Explorer.exe, Termina Attività. Una volta fatto vai su Esegui Nuove Attività e qua sopra vai a scrivere. Explorer. Scrivi qua sopra Explorer.exe e fai ok. Ragioniamo così il desktop. Se non funziona possiamo andare direttamente nella cartella di questa applicazione e fare un collegamento e metterlo sul desktop. Quindi in questo caso vado su Esegui. Qui vado a scrivere per cento, app data per cento, vado a prendere così l'applicazione di Discord, faccio ok. Vado su app data, local, vado su Discord, vado su app ed ecco Discord. Faccio mostrattropazione, invia, invia un collegamento. Ed eccolo qua. A Discord. Questo visto che non funziona più posso anche cancellarlo. Ed ecco Discord. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Ciao.